Siamo a Palagiano, stiamo cercando un po' di fare il punto sulle attività amministrative dell'ente, ci siamo confrontati con il sindaco in precedenza, ora siamo con il dottor Mimmo Catucci che è assessore del comune di Palagiano a vari ambiti, agricoltura, attività produttive, bilancio personale, sono certamente settori nevralgici essenziali ai fini della vita amministrativa di un'ente. Ecco, così per sommi capi, per flash, facciamo il punto delle attività realizzate dai suoi assessorati. Sì, tutto naturalmente parte dal bilancio perché se non risani il bilancio non trovi le risorse da poter investire, da poter scaricare sul territorio. Noi quando ci siamo insediati a luglio del 2017 eravamo quasi in una fase di predissesto perché c'erano problemi seri, c'erano delle procedure che richiedevano delle riscossioni coattive, delle somme coattive che dovevano essere date a delle persone che avevano vinto una causa e quindi avevamo seri problemi di copertura di questi contenziosi. Poi piano piano, con un'opera importante di risanamento del bilancio, o meglio di una rimodulazione della spesa, siamo riusciti a investire un po' di risorse, siamo riusciti a trovare i fondi per la progettazione perché ci eravamo resi conto e ci siamo resi conto che c'erano dei capitoli di spesa sottostimati, cioè c'erano tante risorse su alcuni capitoli di spesa e c'era una sproporzione rispetto a risorse su altri capitoli di spesa nevralgici. Diciamo riequilibrare con un criterio ovviamente di logica. Esatto, perché per esempio non era possibile che ci fossero poche migliaia di euro sul capitolo della progettazione. La progettazione è fondamentale se vuoi partecipare a dei bandi regionali e nazionali perché se non hai progetti non puoi presentare il progetto, non puoi candidare la tua idea di investimento sul territorio alla regione per esempio o allo Stato e quindi non arrivano le risorse. Noi abbiamo vinto importanti finanziamenti, io per esempio ho fatto in modo anche insieme all'aiuto naturalmente degli amministratori, quindi degli assessori, dei consiglieri comunali e del sindaco, di puntare per esempio sul progetto dell'Istituto Urbano del Commercio. Grazie a quel progetto sono arrivate 200 mila euro nelle casse comunali e quelle risorse sono servite per valorizzare un quartiere periferico di Palagiano, quindi quelle risorse sono arrivate grazie ad un investimento nelle spese di progettazione. Quindi giustamente come dicevi tu una rimodulazione della spesa perché le entrate comunali sono sempre quelle verosimilmente, cioè c'è il fondo di solidarietà comunale e ci sono i tributi, ci sono le imposte, però noi, come ho detto prima, rimodulando la spesa siamo riusciti ad erogare tanti servizi, ad investire tante risorse sul territorio, sicuramente molto c'è ancora da fare, però io mi ricordo sempre da dove siamo partiti e verso quale situazione stiamo andando. Innanzitutto abbiamo un bilancio chiaro, veritiero e trasparente che illustra bene quella che è la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ecco, agricoltura e attività produttive. L'agricoltura è l'attività principale in un paese come quello... Perché ovviamente c'è un nesso inscindibile. Non ci sono attività produttive se non c'è agricoltura, perché come ho detto prima l'agro di Palagiano si estende su circa 5.000 ettari, 3.500 di questi ettari sono coltivati ad agrumi che sono l'eccellenza del nostro territorio, soprattutto il Clementini di Palagiano. Tu molto spesso mi fai questa domanda quando mi intervisti e io tutte le volte ti dico che purtroppo gli agricoltori sono un po' di anni, nonostante le operazioni massicce di marketing territoriale, quindi di pubblicizzazione del nostro prodotto anche a livello nazionale. Ricordiamo che a Palagiano è venuta linea verde, quindi una trasmissione importante a livello nazionale e durante questa trasmissione abbiamo pubblicizzato quella che è la nostra eccellenza, il Clementini. Veniamo però da anni in cui per varie situazioni, congiunture negative di mercato, calamità anche quest'anno, abbiamo subito l'8 e 9 aprile una calamità importante e per questi motivi e anche per altri non riusciamo a vendere in maniera dignitosa il nostro prodotto sul mercato. Quest'anno c'è una produzione un po' inferiore rispetto agli altri anni, quindi il prodotto per una legge di mercato naturalmente si dovrebbe vendere a un prezzo un po' più alto. Io però, come ho sempre fatto, invito gli agricoltori ad unirsi, a consorziarsi, a fare cooperative, per avere un maggior potere di mercato, perché quello che secondo me è il problema principale degli agricoltori, quindi delle attività produttive che si dedicano all'agricoltura a Palagiano è quella della eccessiva frammentazione della proprietà. A Palagiano ci sono circa 700 aziende agricole che vanno dall'azienda di un ettaro fino all'azienda di parecchie decine di ettari. Bisogna avere potere di mercato, bisogna fare in modo di avere un prodotto riconoscibile sul mercato, il Clementini di Palagiano, che sia un valore aggiunto per coloro i quali vanno ad acquistare questo prodotto. Per concludere la nostra chiacchierata, Assessore, lei detiene la delega al personale. È un fatto importante perché ovviamente voi svolgete un ruolo politico, però chiaramente è prezioso l'impegno di tutto il personale per perseguire gli obiettivi. Molte volte, come dire, penso a una rappresentazione teatrale, beh, c'è indubbiamente, ci sono i primi, c'è, come dire, la prima donna, gli attori protagonisti, però chiaramente c'è anche un esercito che non si vede e che però produce ed è, come dire, imprescindibile ai fini del raggiungimento di certi obiettivi. Gli impiegati comunali sono essenziali perché la macchina amministrativa vada avanti. Noi naturalmente come amministratori diamo l'input politico-amministrativi su ciò che si deve fare. Dopodiché chi esegue, quindi il potere esecutivo in sostanza all'interno del comune, è detenuto dagli impiegati. Noi, con sede della Luigi, da quattro anni e mezzo, in quattro anni e mezzo abbiamo bandito tanti concorsi perché abbiamo trovato, come ho detto prima, delle risorse che sono state investite anche sul fabbisogno del personale. Abbiamo, per esempio, bandito un paio di concorsi per la figura CIA di amministrativo contabile, un concorso per un geometra, un paio di concorsi, uno a tempo determinato e uno a tempo indeterminato, per i vigili urbani, un concorso da D come istruttore direttivo. Quindi stiamo facendo in modo di potenziare la macchina amministrativa perché gli esecutori di quelle che sono l'input, come giustamente dicevi tu, del potere politico sono gli impiegati comunali.